ultima edizione del nostro telegiornale buonasera ben ritrovati con la nostra informazione la politica in apertura esprimo soddisfazione per il provvedimento urgente approvato in consiglio dei ministri che consentirà anche al molise di spalmare il disavanzo di amministrazione della regione assicurando la continuità dei servizi ai cittadini e aprendo nuove possibilità di crescita lo ha dichiarato il senatore e coordinatore di forza italia molise claudio lotito sentiamo tonino danese arriva dal senatore claudio lotito la notizia di un provvedimento che mette finalmente mano al disavanzo maturato dalla regione molise si parla di un disavanzo ulteriore rispetto a quello strutturale di circa 137 milioni di euro dovuto a debiti fuori bilancio e residui attivi maturati in larga parte dalle passate amministrazioni regionali in particolare si offre la possibilità di spalmare il debito arretrato di bilancio del molise su dieci anni lo spalma debiti in altre parole permette di ripianare i disavanzi degli ultimi dieci anni di esercizio contestualmente all'adozione di una delibera regionale con il piano di rientro a più riprese il presidente toma aveva interloquito con il governo e nello specifico attraverso il senatore lotito vicepresidente della commissione bilancio adesso con il varo di questo provvedimento governativo sarà possibile intervenire per sanare il buco in bilancio soddisfazione è stata espressa dal senatore lotito che ha chiarito come il provvedimento urgente approvato in consiglio dei ministri consentirà anche al molise la continuità dei servizi ai cittadini aprendo nuove possibilità di crescita grazie al provvedimento urgente approvato in consiglio dei ministri per il molise che ho fortemente voluto e per il quale mi sono battuto in prima persona assicuriamo la continuità di servizi ai cittadini molisiani e abbiamo nuove possibilità di crescita risolto il problema del disavanzo della regione che potrà essere spalmato in più anni continueremo a lavorare per rilanciare lo sviluppo di un territorio ricco di opportunità il molise potrà finalmente tirarsi fuori dall'attuale situazione di gestione provvisoria l'auspicato decreto ad hoc ha commentato il governatore toma e adesso realtà grazie ad una misura urgente approvata oggi dal governo dopo un lavoro di squadra che ho avviato con un'istanza ufficiale diversi mesi fa il notevole sforzo finanziario profuso dall'amministrazione regionale negli ultimi cinque anni al fine di riequilibrare il conto in passivo trova oggi nei tavoli romani una sponda importante opportuna ed apprezzabile si tratta di un provvedimento vitale in vista dell'approvazione del bilancio di previsione e ha concluso toma per garantire la continuità dei servizi e lo sblocco della provvisoria in pass amministrativa continuiamo con la politica sono stati resi noti i nomi della lista del movimento 5 stelle che correrà alle prossime regionali all'interno quattro dei sei consiglieri uscenti greco nola primiani e de chirico nel gruppo anche i candidati alle scorse politiche balducci del mirto belmonte e riccardo di palma sul fronte centrodestra si dimette da presidente del cosib di termoli il sindaco di petacciato roberto di pardo possibile la sua candidatura con francesco roberti nel terzo polo si sfila insieme sentiamo pasquale di bello è partita la corsa alla presentazione delle liste in vista delle prossime regionali di giugno formalmente il deposito potrà avvenire dalle ore 8 di venerdì 26 maggio fino alle ore 12 di sabato 27 tuttavia c'è chi ha già reso nota la rosa dei candidati che scentenanno in campo a bruciare le tappe è stato il movimento 5 stelle che ha pubblicato sulla propria pagina web l'elenco dei nomi da sottoporre alla ratifica degli iscritti al movimento la votazione online è fissata per il 24 maggio dalle ore 10 alle ore 22 saranno ammessi al voto tutti coloro che risulteranno iscritti al movimento da almeno sei mesi molti i volti noti che scenderanno in campo a partire da quattro dei sei consiglieri regionali uscenti andrea greco vittorio nola angelo primiani e fabio de chirico non ci saranno invece valerio fontana per sua scelta e patrizia manzo giunta al suo secondo e ultimo mandato tra gli altri volti noti alle cronache ci sono tutti e quattro i candidati alle scorse elezioni politiche di settembre riccardo di palma e anna maria belmonte che hanno corso alla camera insieme a ottavio balducci e maria del mirto che invece hanno corso per il senato dopo una parentesi di tensioni con il movimento torna in campo anche il nome di nick di michele consigliere comunale a termoli sempre tra gli amministratori spunta la candidatura di simone cretella assessore all'ambiente al comune di campo basso gli altri nomi in corsa sono franco angeli giulio botteri adriana d'angona anna rita de notaris maria luisa di bianco augusta di giorgi rosanna evangelista matteo fallica mariella pilla e annalisa rainone nel centrodestra invece c'è da segnalare la notizia delle dimissioni del sindaco di petacciato roberto di pardo da presidente del cosib di termoli la sua potrebbe essere una candidatura nella lista del presidente alla quale sta lavorando francesco roberti sempre sul fronte dei sindaci invece nel centro sinistra pronto a scendere in campo con roberto gravina l'ex sindaco di san martino in pensilis massimo caravatta il cui nome viene accreditato nella lista di costruire democrazia proprio a san martino in pensilis si sta profilando una concentrazione di candidature mai vista prima facciolla e totaro nelle liste pd l'attuale sindaco di matteo accreditato nella lista di roberti e l'ex primo cittadino caravatta appunto con gravina infine due ultime annotazioni sul taccuino politico la prima è la visita di lorenzo cesa in molise insieme al presidente del consiglio regionale salvatore micone cesa è al lavoro per chiudere la lista dell'udc la seconda invece arriva dal terzo polo dal quale si sfila la formazione insieme non ci sono le condizioni per partecipare a queste elezioni dicono con rammarico i dirigenti che si erano prefissi la costruzione di un'area di centro capace di raccogliere consensi soprattutto nell'area dell'astenzionismo restano quindi nel terzo polo italia viva azione e molise al centro arriva dal senatore claudio lotito la notizia di un provvedimento che mette finalmente mano al disavanzo maturato dalla regione molise si parla di un disavanzo ulteriore rispetto a quello strutturale di circa 137 milioni di euro dovuto a debiti fuori bilancio e residui attivi maturati in larga parte dalle passate amministrazioni regionali a più riprese il presidente toma aveva interloquito col governo e nello specifico attraverso il senatore lotito vicepresidente della commissione bilancio adesso col provvedimento governativo sarà possibile intervenire per sanare il buco in bilancio soddisfazione è stata espressa dal senatore lotito che ha chiarito come il provvedimento urgente approvato in consiglio dei ministri consentirà anche al molise di spalmare il disavanzo di amministrazione della regione assicurando la continuità dei servizi ai cittadini e aprendo nuove possibilità di crescita grazie a questa misura che ho fortemente voluto e per la quale mi sono battuto in prima persona potremo garantire il riequilibrio finanziario della regione il provvedimento di oggi frutto di uno straordinario lavoro di squadra che ha visto forza italia e il centro-destra protagonisti conferma che siamo sulla strada giusta continueremo a lavorare mettendo in campo tutti gli sforzi necessari a rilanciare lo sviluppo di un territorio ricco di grandi opportunità ha concluso lotito tregua armata tra la capogruppo del movimento 5 stelle il vira barone e il sindaco di sernia castro castrataro dopo i contrasti in consiglio comunale resto in attesa dei prossimi passi dell'amministrazione ha detto la consigliera ma non sono d'accordo sull'eventuale candidatura alle regionali di alcuni esponenti della giunta enrico de simone schiarite su palazzo san francesco a isernia il sindaco piaro castrataro ha convocato per un confronto la capogruppo del movimento 5 stelle il vira barone dopo i contrasti relativi allo scorso consiglio comunale l'esponente pentastellata infatti in dissenso con la maggioranza non aveva votato il bilancio di previsione una scelta motivata dal trattamento riservato nei suoi confronti dall'amministrazione comunale nessuna delle mie istanze è stata ascoltata aveva detto in quella occasione la consigliera ma al termine della recente riunione di confronto barone e castrataro non si sono di certo dati il mignolo più che di pace fatta tra i due tregua armata la capogruppo 5 stelle ha confermato che porterà avanti i suoi compiti da eletta ma ha messo sul tavolo del sindaco questioni da affrontare tra queste la risoluzione del problema dell'emergenza abitativa dell'edificio del 10 settembre la sistemazione di via lo russo e l'affidamento tramite gara del servizio di vigilanza notturna tema quest'ultimo che aveva già scatenato un ampio dibattito a seguito di reiterati affidamenti diretti resto in attesa dei prossimi passi di castrataro ha commentato barone per vedere se dopo l'accordo a parole seguiranno anche i fatti al tavolo tra i due esponenti politici zernini anche il consigliere regionale vittorio nola chiarimento arrivato anche per mostrare unità nella coalizione pd 5 stelle che guida il comune e che sarà in corsa alle elezioni di giugno a riguardo barone chiarisce la sua linea mi sembra poco corretto che esponenti della giunta comunale pensino di candidarsi alle regionali e ha detto non sarebbe coerente a un anno e mezzo dalla nostra elezione o almeno io non lo farei posizione vicina a quella dell'ex assessore francesca scarabeo che sull'ipotesi candidatura era già intervenuta insomma anche dopo il cessate il fuoco resta ancora qualche nube nell'orizzonte della maggioranza isernia bollettino meteo da palazzo san francesco sereno variabile e restiamo ad iserne tornato a riunirsi a palazzo san francesco il consiglio comunale tra i provvedimenti votati anche la modifica del regolamento delle entrate che prevede la possibilità per i cittadini di rateizzare in 72 quote i pagamenti dei debiti tributari inoltre approdata in aula l'interrogazione del consigliere di minoranza giovancarni mancini sui tempi di riapertura dell'ex cinema di via de gasperi la maggioranza ha confermato che l'iter amministrativo di affidamento della sala continua ad andare avanti e che la struttura potrebbe riaprire a breve 90 giorni per motivare le scelte fatte con il post 2019 2021 a stabilirlo il tar molise che ha chiesto alla struttura commissariale di motivare le scelte effettuate in materia di emergenza urgenza ricorrere contro l'atto deliberato dall'allora commissario giustini sono stati il comune di campo basso e il comitato pro cardarelli sentiamo rete emergenza urgenza il tar molise interviene su uno dei temi cruciali che riguardano il sistema sanitario regionale chiede conto alla struttura commissariale di fornire le motivazioni che sono alla base delle scelte effettuate dal programma operativo sanitario 2019 2021 in buona sostanza quel documento detto ruolo centrale ai privati dirottando un eventuale intervento pubblico presso gli ospedali di foggia e benevento a scrivere quel documento fu l'ex commissario giustini ma ad adottarlo fu l'attuale titolare dell'incarico donato toma a ricorrere contro il provvedimento furono il comune di campo basso e il comitato pro cardarelli il tar di fatto ha secondato quelle che sono le esigenze istrutture cioè capire sulla base di che cosa sono state prese delle decisioni importanti quindi capire i fabbisogni non c'è dimostrazione di uno studio sui fabbisogni non c'è un'adeguata struttura organizzativa per garantire soprattutto per le malattie tempo dipendenti in particolare per l'ictus emorragico il diciamo così il diritto alla salute e rispetto dell'EA ecco questo è quello che il tar chiede in questo caso alla struttura commissariale anche sulla base di quelle che sono state tutte le eccezioni respinte sia da parte di ASRAM e della struttura commissariale e anche di Neuromed e quindi ci aspettiamo che questo rappresenti un punto di caduta importante per la futura programmazione sanitaria. Da gravina una considerazione che va oltre i confini comunali l'impugnativa del POS ha ricadute evidenti su tutto il territorio regionale. È importante perché l'ospedale Cardarelli è ospedale hub e quindi è chiaro che quello che riusciamo ad ottenere per l'ospedale Cardarelli non è a detrimento di nessuno ma anzi è una garanzia di poter avere le giuste cure anche da appunto coloro che dovranno accedere sulla base di un'organizzazione sanitaria ad una struttura pubblica. Dal presidente del comitato Pro Cardarelli Mino Dentizi arrivano due considerazioni la soddisfazione per il riconoscimento del comitato come soggetto portatore di interessi pubblici l'altra la necessità di individuare soluzioni che non siano di carattere giudiziario ma di programmazione. Questo riconoscimento a noi ci gratifica molto perché significa che il nostro lavoro in pratica è stato riconosciuto che siamo titolari di poter rappresentare almeno la sanità del Cardarelli ma io credo che siamo titolari di rappresentare quasi tutta la sanità molisana soprattutto come si è formato e si è trasformato il comitato Cardarelli ultimamente. Le vie giudiziarie servono ma non servono a tutto. A curare i ricorsi sono stati gli avvocati Margherita Zezza e Mariano Morgese per il comitato Pro Cardarelli invece per il comune gli avvocati ricorrenti sono stati Pino Ruta e Massimo Romano e proprio Romano a spiegare il merito della sentenza. Il TAR ha ordinato alla struttura commissariale di relazionare in maniera puntuale e documentata entro 90 giorni sulla adeguatezza dei fabbisogni e sulla adeguatezza della rete delle malattie tempodipendenti. Oggi la domanda che ha posto il comune e il comitato nel ricorso al TAR e a cui il TAR ha dovuto rispondere con l'accertamento istruttorio è questa. È garantito il diritto dei pazienti e utenti molisani ad essere, a vedersi riconosciute cure adeguate in caso di malattie tempodipendenti? La risposta purtroppo è no perché abbiamo completamente smantellato tutti i posti letto di neurochirurgia dalle strutture pubbliche, ci sono strutture che invece ne hanno preservate decine private ma non hanno pronto soccorso e sono stati previsti accordi con gli ospedali di fuori regione, in particolare Benevento e Foggia, ma senza che questi accordi siano stati formalizzati con la conseguenza che oggi se a ciascun paziente molisano e purtroppo la storia ci dice che è già capitato, occorresse un episodio, un ictus emorragico ad esempio, non si saprebbe chi è tenuto e chi è obbligato ad effettuare il relativo trattamento. Il TAR ha fissato la nuova odienza al 24 gennaio 2024, intanto nei prossimi 90 giorni si attendono i chiarimenti dell'attuale commissario, ma il punto è proprio questo, chi sarà il nuovo commissario dopo le elezioni regionali? Ancora Toma, il nuovo presidente di regione? Oppure un terzo? Questo al momento resta un mistero spesso e impenetrabile quanto la muraglia cinese. La cronaca, restano in carcere le due coppie Roma, arrestate due settimane fa dai carabinieri nell'ambito dell'operazione France con l'accusa di gestire un traffico di cocaina a Campobasso. La decisione è stata presa dal Tribunale del Riesame del Capoluogo al quale gli avvocati dei quattro, Nicolino Cristofaro, Stefano Sabatini e Elena Verde, avevano fatto ricorso ritenendo eccessiva la misura cautelare. L'udienza si è tenuta nelle prime ore della mattinata e al termine il giudice si era riservato la decisione, decisione che poi è arrivata in tarda mattinata. I carabinieri della stazione di Montenero di Bisaccia hanno arrestato in flagranza di reato un giovane per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. Con l'ausilio di un cane del nucleo carabinieri cinofili di Chieti hanno perquisito la casa del ragazzo con precedenti e sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno. Il ragazzo aveva quattro involucri di plastica con 40 grammi di hashish, un coltello con lama di 20 centimetri usato per tagliare la droga e materiale vario per confezionarla. Adesso si trova ai domiciliari. Rissa tra ragazzi extracomunitari in pieno centro di Sernia. L'episodio è avvenuto questo pomeriggio nelle vicinanze della stazione dei Pullman. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia e i sanitari del 118 coinvolti nella lite tre giovani, due minorenni e uno maggiorenne che hanno riportato solo ferite lievi e sono stati denunciati a piede libero. Cambiamo argomento. Le abbondanti piogge hanno causato molti danni alle produzioni del basso Molise, a dirlo è la Coldiretti che chiede alle istituzioni di quantificare i danni e valutare interventi risarcitori. In sofferenza sono tutti i comparti, vino, ortaggi, frutta e perfino il miele, dice Coldiretti. Sentiamo. La Coldiretti Molise, nell'esprimere solidarietà alla popolazione romagnola in grave difficoltà per via dell'alluvione, ricorda che anche il Molise non è uscito indenne dalle forti piogge dei giorni scorsi. A riportare danni maggiori è stato il basso Molise, specialmente nei territori dei comuni di Campomarino, Portocannone, Guglionesi e San Martino in Pensilis. Nelle aree colpite i viticoltori non riescono ad andare sui campi per poter svolgere i trattamenti necessari a contrastare l'attacco dei parassiti della vite e questo rischia di pesare sul comparto vitivinicolo che già sta attraversando da molti mesi serie difficoltà a causa dell'elevata giacenza di vino nelle cantine conseguenti al difficile andamento del mercato. In sofferenza per la troppa acqua anche i frutteti, in particolare i susini, albicocchie e ciliegi, ormai prossimi alla raccolta. Ma i dati più catastrofici riguardano i terreni seminati. Intere coltivazioni di cipolle, per esempio, sono andate perse, sommerse dall'acqua. Forti disagi, denunciano gli agricoltori, stanno subendo anche gli apicoltori. Le piogge incessanti e l'andamento climatico, completamente anomalo, hanno costretto gli apicoltori a nutrire gli alveari in maniera artificiale per scongiurare la morte delle api. La Coldiretti, vista la situazione, chiede che la regione verifichi al più presto l'ammontare dei danni, valutando anche interventi risarcitori come avvenuto per la siccità dell'anno scorso. I molise sono in aumento i casi di infezione di anisakis, una larva che si trova nel pesce azzurro, i molluschi crudi o poco cotti. A riportare la notizia è l'agenzia di stampa alla press. Si stima un caso al mese, circa nell'ultimo periodo, riferito al numero dei pazienti con questo tipo di infezione, che si sono rivolti al pronto soccorso dell'ospedale Santimoteo di Termoli. I sintomi riguardano soprattutto persone che hanno mangiato alici, marinate e hanno riferito gli operatori sanitari. Va detto però che né il limone, né il sale, né l'olio aceto, né la fumicatura da soli hanno alcun effetto sull'anisakis. L'unico metodo per non rischiare è consumare pesce che è stato precedentemente congelato o abbattuto. E adesso torniamo a parlare delle ultime elezioni amministrative della scorsa settimana. Ci eravamo già occupati del record molisano, delle liste fantasma in corsa, quasi la metà delle 66 presentate. Del caso ha parlato ora anche la trasmissione striscia la notizia e c'è una novità importante. il senatore Costanzo Della Porta ha annunciato una norma in fase di approvazione in Parlamento che ripristina le firme anche nei piccoli comuni. Enzo Luongo. E' in arrivo una nuova norma per frenare il fenomeno delle liste fantasma nei piccoli comuni. Lo ha annunciato il senatore Costanzo Della Porta, intervistato da striscia la notizia. Il Tg satirico di Canale 5 ha dedicato un servizio alla vicenda delle liste presentate da non residenti in Molise alle elezioni amministrative dei giorni scorsi. In regione erano quasi la metà delle 66 liste in campo, praticamente tutte hanno totalizzato zero voti. Molto spesso si tratta di candidature presentate da militari o esponenti delle forze dell'ordine che una volta candidati hanno diritto per legge ad una licenza straordinaria per tutto il mese della campagna elettorale. Il fenomeno si registra da anni esclusivamente nei centri sotto i mili abitanti, dove non è necessario raccogliere le firme per la sottoscrizione delle liste. Lo scorso primo marzo, ha detto Della Porta, abbiamo approvato in Senato una norma che va a limitare fortemente questa possibilità perché ripristina la raccolta delle firme per presentare le candidature anche nei comuni più piccoli. Il disegno di legge ora dovrà essere approvato anche dalla Camera e spero che già dalle prossime elezioni amministrative la nuova norma sarà in vigore, ha concluso il parlamentare. Tra i casi più singolari del voto della settimana scorsa c'è stato quello di Salcito, comune con poche centinaia di abitanti, dove sono state presentate nove liste, ma solo due hanno preso voti, le altre sette sono rimaste a zero. E poi ancora Campochiaro, cinque liste su otto non hanno avuto voti e a Sessano del Molise cinque liste su sette rimaste senza preferenze. In occasione dell'anniversario della strage di Capaci, nella quale morirono il giudice Falcone, sua moglie Francesca Morvillo e gli uomini della scorta Antonio Montinaro, Vito Schifani e Rocco di Cillo, c'è da registrare anche il messaggio del presidente della regione Donato Toma. La mafia, non solo nella sua organizzazione territoriale, ma anche negli atteggiamenti di alcuni, ha detto continua a vivere latente nella nostra società. Tina Montinaro, vedova di Antonio, nella sua preziosa testimonianza, disse che ognuno di noi ha il potere di contribuire a combattere la mafia. La politica, ha concluso Toma, ha il dovere di sostenere chi ha reso e renderà la nostra città dei luoghi più sani e vivibili e di essere più liberi in un paese migliore. Coinvolgere gli studenti sui temi della legalità e della lotta alle mafie sono questi gli obiettivi dell'iniziativa Capaci di Crescere in Molise, promossa dall'Associazione Nazionale Rete di Prossimità. L'evento, che ha coinvolto docenti e ragazze delle scuole della città, si è svolto al Parco Comunale di Termoli, Girolamo. La penna, Francesca Danversa. In occasione dell'anniversario della strage di Capaci, più di 60 studenti delle scuole secondarie di primo grado di Termoli si sono ritrovati questa mattina al Parco Comunale per parlare di legalità, di quanto sia importante rispettare le regole, di non aver paura di indignarsi, di aver coraggio di difendere le proprie idee. Capaci di Crescere in Molise è il titolo scelto per l'iniziativa promossa dalla Rete Nazionale di Prossimità per Costruire Legalità ed è la prima volta che si svolge in Regione. Capaci di Crescere significa assumersi le proprie responsabilità anche in questo caso conoscendo questa storia della mafia che è molto importante soprattutto nel sud dell'Italia dove noi viviamo perché è molto più frequente e ognuno infatti deve essere a conoscenza di questo fatto e anche cercare di cambiare nel suo piccolo. Il senso di questa manifestazione di oggi è sicuramente quello di far conoscere agli alunni e alle scuole la strage di Capaci quindi quello che è successo è di sensibilizzare per non farlo succedere più. È intervenuto anche il sindaco Francesco Roberti che ai ragazzi ha detto la mafia ci ruba il futuro e i diritti, no alla mafia, sia alla schiena dritta, lo Stato c'è. Presente anche il maggiore dei carabinieri Alessandro Vergine che ha invitato i giovani a rispettare le regole per proteggere questa terra incontaminata dalla criminalità. A dialogare con i ragazzi anche l'avvocato Micaela Bruno. A 31 anni dalla strage di Capace e quindi oggi bello anche questo titolo, Capaci di crescere in Molise, di non allontanarsi dalla nostra terra, di avere il coraggio di vivere nella legalità. L'iniziativa messa in campo dalle fondazioni Ebene e Falcone in collaborazione con le cooperative Cairos e Lilli con il patrocinio del comune di Termoli. Rispetto a questo sentire mafioso noi abbiamo il dovere come amministratori, come associazionismo locale anche di sensibilizzare le generazioni. Un sentire mafioso che si può manifestare con il clientelismo, con una mala politica, con il favoritismo, con l'assenza di meritocrazia. I giovani devono essere sensibilizzati rispetto a questo, a partire anche dal rispetto del nostro parco comunale. Al termine della giornata i ragazzi sono stati coinvolti nella realizzazione di un flash mob sotto la direzione del regista Simone D'Angelo. Il cinema oggi riesce a veicolare il messaggio, riesce a coinvolgere e a stimolare, sensibilizzare le persone sul tema. Infatti secondo me in Italia qualcosa sta accadendo. Sono 2544 i candidati ammessi al concorso pubblico per titoli ed esami bandito dall'Avrem per la copertura di 16 posti nel profilo di assistente amministrativo. Un piccolo esercito anche per un secondo concorso per assumere 26 unità nel profilo di collaboratore amministrativo professionale. Sono 1157 gli aspiranti che hanno risposto al bando. Al via il percorso rosa del pronto soccorso di Isernia. Si tratta di una corsia dedicata alle donne vittime di violenza all'interno del Veneziale che è già dotato di una stanza per le visite e per l'ascolto protetto. Sentiamo Valeria Migliore. Il pronto soccorso del Veneziale di Isernia avrà un percorso rosa dedicato all'assistenza sociosanitaria delle donne che subiscano abusi e maltrattamenti. L'Avrem ha infatti approvato il progetto che partirà a giorni e che mira a mettere in campo una serie di interventi sul territorio provinciale, tutti mirati al contrasto di un fenomeno ormai sempre più diffuso, quello della violenza di genere. Fanno parte della squadra istituzioni, forze dell'ordine e medici che hanno sottoscritto l'intesa. Sarà la dirigente di ginecologia Angela Scungio a coordinare le attività previste dal protocollo. E si parte proprio dal percorso rosa, una corsia all'interno del Veneziale dedicata alle vittime che potranno essere ascoltate e visitate in un'apposita stanza dotata anche di un congelatore per i referti e di una macchina fotografica per documentare gli eventuali segni di violenza. È un discorso che era iniziato qualche anno fa, poi si è interrotto col Covid, infatti anche quella stanza rosa è stata debita al reparto Covid. Adesso è stato ripreso, soprattutto grazie alla dottoressa Scungio, la ginecologa dell'ospedale, che l'ha ripreso, ha fatto un progetto, è stato approvato e quindi da pochi giorni abbiamo rimesso su questa stanza rosa dotata appunto delle attrezzature necessarie. Nel momento in cui si dovesse presentarsi una persona, una donna appunto che denuncia maltrattamenti, violenze anche verbali, allora immediatamente scatta questo protocollo del percorso rosa, la signora viene fatta accedere alla stanza in maniera protetta, lì viene visitata con coinvolgimento di vari specialisti, soprattutto il ginecologo, chiaramente se per esempio potesse riferire violenza. Giovedì in piazza Celestino V a Disernia dalle 9 alle 14 si terrà una raccolta firme per il referendum contro l'invio di armi in Ucraina e per la proposta di legge popolare Riprendiamoci il Comune. Saranno presenti i promotori dell'iniziativa rappresentanti di Attack Italia Molise. E parliamo adesso di estate sicura al mare perché la direzione marittima del Bruzzo e del Molise delle isole Tremiti ha emanato l'ordinanza di sicurezza balneare per la stagione estiva 2023. La competenza per quanto riguarda anche i soccorsi è affidata alla Guardia Costiera di Termoli. Tonino Danese. Dopo l'ordinanza regionale che disciplina ciò che riguarda il demanio marittimo da un punto di vista turistico è arrivata anche quella di sicurezza balneare per l'imminente stagione estiva. L'ha emanata la direzione marittima dell'Abruzzo-Molise-Isole Tremiti. Il provvedimento regolamenta la balneazione e lo svolgimento in sicurezza delle attività turistico-ricreative in mare e sul litorale, da Martinsicuro in provincia di Teramo fino a Campomarino, di Omedee comprese. La competenza anche per quanto riguarda i soccorsi è affidata alla Guardia Costiera di Termoli. Particolare attenzione nell'ordinanza emanata è riservata al rispetto della fascia di 5 metri dalla battigia che dovrà sempre essere lasciata libera per qualsiasi esigenza. Anche per questa estate, ha spiegato la Guardia Costiera, il nostro impegno mira ad assicurare l'attività di soccorso in favore di bagnanti, di portisti e subacquei e intensificare i controlli su tutte le attività svolte in mare per prevenire condotte illecite, pericolose per le persone, per il patrimonio ambientale, per l'ecosistema marino e per le risorse ittiche. La stessa Guardia Costiera ha ricordato che il numero blu per le emergenze in mare è il 1530. Intanto quest'anno il Molise ha ottenuto due bandiere blu, Campomarino ancora e il vessillo torna a sventolare anche sulla spiaggia di Termoli. Al Salone Internazionale del Libro di Torino consensi per il romanzo piccole immagini di Raso Bianco scritto da Manuela Petescia, direttore di Telemolise. Il portale exlibris20.it specializzato in letteratura e educazione alla lettura, fondato e curato dal 2016 da Lea Iandiorio, dopo averlo recensito nella rubrica Lovers, ha inserito il libro della giornalista molissana come primo suggerimento per l'ultima giornata del Salone. Soddisfazione viene espressa dall'editore del romanzo di Petescia, Florindo Rubettino. Non sono sorpreso dal favore con cui è stato accolto il romanzo, afferma. Penso che Manuela si iscriva in una grande tradizione letteraria italiana, una voce tra le più autentiche e le più originali del panorama contemporaneo. Un editore lo definisco un cacciatore di storie, nel senso che cerca sempre di individuare qualcosa che possa appassionare, far sognare, dissacrare, spiazzare. E piccole immagini di raso bianco, conclude Rubettino, lo fa davvero bene e lo fa con una potenza e una maturità straordinarie. Manuela sa raccontare l'umanità. Questo romanzo è storia della provincia italiana, storia di ipocrisia, iperbenismo, storia di amore fino all'abisso. Per alzare lo sguardo oltre l'orizzonte è il titolo del primo concorso regionale dedicato a Lorenzo Perosi nell'ambito delle manifestazioni per i 150 anni dalla nascita. Domani le premiazioni nell'auditorium dell'Aix Gil di Campobasso. Sentiamo. Partecipano studenti del Conservatorio Perosi di Campobasso, ma anche di diverse scuole superiori al primo concorso regionale di esecuzione musicale e di ricerca storica e innovazione multimediale dal titolo per alzare lo sguardo oltre l'orizzonte. Nell'auditorium della Ex Gil di Campobasso e al Conservatorio le esibizioni al vaglio della qualificata giuria, concorso dedicato a Lorenzo Perosi per il 150esimo anniversario della sua nascita, un'iniziativa dell'ufficio scolastico regionale in collaborazione con il Conservatorio Campobassano, il di Castero per la comunicazione della Santa Sede, le consulte provinciali degli studenti del capoluogo e l'Associazione Nazionale Cittadini Mediali. Un concorso che cade in concomitanza anche con l'inaugurazione, definiamola così, dell'orchestra scolastica regionale del Molise, altro grande evento che abbiamo vissuto in questi giorni, quindi un momento importante per la scuola molisana all'insegna dell'alta cultura, all'insegna della musica, quale innanzitutto strumento di comunicazione universale. Educare alla bellezza attraverso il linguaggio universale della musica, lo scambio e il confronto sono gli obiettivi centrali. Uno strumento di educazione allo stare insieme, perché la maggior parte delle esibizioni sono appunto esibizioni di musica d'insieme, quindi un percorso importante per aiutare a collaborare, a confrontarsi, appunto a fare squadra, quindi un obiettivo educativo altissimo. Molti ragazzi hanno dato modo di sapere non solo eseguire molto correttamente gli spartiti musicali, ma addirittura li hanno elaborati, li hanno trascritti, li hanno arrangiati personalmente per i loro strumenti, perché c'è da ricordare che Monsignor Perosi era un compositore di musica sacra in un'epoca in cui nelle chiese si suonava l'organo o pochi altri strumenti. Domani, sempre nell'auditorium della ex Gilla Campobasso, le premiazioni. Ci sono diversi premi, le cose più importanti sono le registrazioni messe a disposizione dalla Radio Vaticana e quindi la possibilità di poter usufruire di un servizio di altissima qualità, di altissimo livello, andando a Roma a registrare in questi studi pregiatissimi. E si è conclusa oggi la due giorni di presentazione, relazioni e workshop con gli studenti al convitto nazionale Mario Pagano di Campobasso alla manifestazione Future Jobs. Formiamo giovani eccellenti organizzato dalla Fondazione Demos Academy. Sentiamo. Formare i giovani alle professioni del futuro al convitto Mario Pagano di Campobasso per la prima volta in Molise e gli stati generali della scuola, evento organizzato dalla Fondazione Demos Academy di Campobasso con impara digitale. Esperti del mondo della scuola e degli istituti tecnici superiori, dirigenti del ministero, imprenditori, psicologi, si sono confrontati con gli studenti sull'evoluzione del mondo del lavoro, considerando le reali esigenze delle imprese, l'innovazione tecnologica e didattica, la virtualità, la robotica. Ma è stata soprattutto la parola futuro la più utilizzata da tutti i relatori, spronando i ragazzi ad investire su se stessi e sul loro domani. E proprio il digitale può essere il compagno ideale per questo percorso. Le persone, gli studenti, i docenti, le risorse e l'organizzazione per farlo accadere nel modo più veloce possibile. Possiamo essere ottimisti? Io penso che noi dobbiamo riprendere a guardare con fiducia al futuro. La scuola deve fare la sua parte, essere in prima fila nella formazione dei ragazzi e lavoratori di domani, in un mondo sempre più tecnologico, approfittando di tutte le nuove tecnologie che hanno a disposizione la realtà virtuale aumentata, il metaverso, la didattica immersiva, le informazioni interattive, tutto quello che è digitale, tutto quello che la scuola può fare per dare loro un'adeguata cassetta degli attrezzi. Cercare di essere scuole, e lo sono, estremamente flessibili, con programmi che partono dall'intercettare quello che è il fabbisogno formativo del territorio, quindi delle imprese del territorio, per accogliere, studiare il futuro. Quindi le nuove professioni, perché registriamo chiaramente una trasformazione digitale, e quindi anche tecnologica dirompente, per poter cogliere tutte le opportunità e smorzare tutti i pericoli che chiaramente anche questa trasformazione comporta, è necessario quindi che si consideri e si integri questa nuova offerta formativa che è rappresentata dagli ITS, che devono sempre di più nel tempo integrarsi in tutta l'offerta formativa generale. Per questa edizione è tutto, grazie per averci preferito. A tutti voi una cordiale buonanotte.